Oh cara moglie, stasera ti prego, di a mio figlio che vada a dormire, perché le cose che io ho da dire, non sono cose che deve sentire. Proprio stamane, là sul lavoro, con il sorriso del capo sezione, ho ricevuto la liquidazione, mi hanno licenziato senza pietà, e la ragione per chi è scioperato, per la difesa dei nostri inti, per la difesa del mio sindacato, del mio lavoro e della libertà. Quando la lotta è tutti per tutti, il tuo padrone lo sai ce l'ha, se invece vince le mie inumili, gli dà la forza che lui non ha. Questo spesso davanti ai cancelli, non si chiamava i compagni alla notta, e il tuo padrone va un senno e una mossa, un compagno ogni stasera entrare. O cara moglie, dovete vederli, venire avanti, curvati e girati, e non aggrinare, curvati e venduti, che loro vivi senza guardare. Quei poveretti facevano vela, ma dietro a loro, là sul portone, rilevano dietro il porco padrone, chiamare le retti senza pietà. O cara moglie, io prima ho sbagliato, dia a mio figlio che venga a sentire, che è da capire che cosa vuol dire, lottare per la libertà. O cara moglie, io prima ho sbagliato, Dio a mio figlio che venga a sentire, che è da capire che cosa vuol dire, lottare per la libertà. Che è da capire che cosa vuol dire, lottare per la libertà. Luttare per la libertà.